Perchè o paura? Tove sei in Italia! Perchè è possibile in Italia, nulla è impossibile in Italia, nulla è impossibile in Italia. A ver, il portoghese, che tal? Perché ti ha un medo? Si è nada impossibile per ti Perché ti ha un medo? Fuerte! Si è nada impossibile per ti Perché ti ha un medo? Si è nada impossibile per ti Perché ti ha un medo? Si è nada impossibile per ti Nada impossibile per ti Nada impossibile per ti Nada impossibile per ti Perché ti ha un medo? Si è nada impossibile per ti Perché ti ha un medo? 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 mamy per te E per manu? Sì Sì Grazie a tutti.